buongiorno cuore buongiorno ma che notizia che da 90 mi hai dato stamattina sta notizia vabbè forse ho capito chi è allora per quanto riguarda usorg sì praticamente il nomignolo del nonno perché siccome lui è piccolino di statura quando era piccolo che faceva il meccanico insomma insieme a un'officina siccome era piccolino piccolino si infiltrava ovunque praticamente e allora il suo maestro il suo diciamo datore di lavoro quando era piccolo gli dice questo nonno meglio gli dice gli disse sei come un topo praticamente che ti mette ovunque cioè riesce ad entrare in qualsiasi tipologia di spazio ed allora gli misero questo nomignolo usorg praticamente che il topo anche se il nonno se la sente se se viene se viene chiamato così cioè per lui è un difetto praticamente la vive in questo modo ok per quanto riguarda invece il signore con la camicia bianca col camice bianco verde ma presumo verde io forse ho capito chi è e probabilmente se quello che dico io è un ragazzo che abitava vicino casa da piccoli abbiamo giocato tanto insieme conosco bene tutta la sua famiglia conosco il fratello conosco la sorella sono stato tante volte a casa sua lui tante volte a casa mia e siamo a cavallo quindi mi potrebbe pure dire mi potrebbe dare delle informazioni insomma vabbè adesso constaterò immediatamente chi è e chi non è ma io presumo che sia 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 lui anche perché era l'unico che si faceva chiamare con quel nome è il papà era praticamente l'autista del del giudice di di del giudice di una giudicessa insomma che stava ad alta mura no vabbè se è quello conosco proprio bene 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 e ti posso dire anche che era un bravissimo ragazzo sicuramente lo sarà ancora senti niente va bene detto questo io come chiudo vado a verificare questa cosa e dopo ti aggiorno anche perché io non l'ho più visto quindi se ti ha detto che è stato lì quindi probabilmente ecco il motivo per cui io non non l'ho visto più qua ad altamura quindi sarà stato per il trasferimento va bene cuore allora niente no no sto su di giri sto su di giri sto su di giri vabbè già il fatto stesso che mi di mi dice no dove sei posizionato per me già un qualcosa di grandioso perché almeno non vengo come un coglione a stare fuori o a stare dentro non sapendo dove ti trovi e quindi già questa è una cosa grandiosa senti poi altra cosa diamoci da fare e niente diamoci da fare diamoci da fare che dobbiamo iniziare anche la preparazione per il e di questo però noi dobbiamo parlare per bene cuore mio ecco perché dobbiamo vederci io se riuscissi a parlare con quel cristoforo colomboc del don gli direi don incontriamoci parliamo vediamo henry vediamo il trapianto vediamo questo parliamo di cose sere non parliamo di stronzate andiamo avanti apri sta cazzo di porta entriamo parliamo vediamo qual è la situazione come c'è li vorrei far capire che è arrivato il momento dove comunque basta queste cazzate costi squilli coste puttanate coste stronzate cioè qua abbiamo bisogno di essere uniti perché mio fratello deve uscire da questa situazione cioè io non resisto più cuore mio a starti lontano io penso tu l'abbia già capito insomma cioè io sto male perché non è possibile che io non devo poter entrare io non devo poter starti vicini cioè è una cosa che mi sta veramente io non non ti voglio distruggere dal punto di vista psicologico assolutamente cuore mio anzi io ti sto solo dicendo il dato di fatto che è una situazione che comunque dobbiamo risolvere e presto perché non non ce la faccio più a starti lontano cuore mio cioè mi sto rendendo conto vedi ad esempio quando vengo lì sì ok mi ossigeno sto meglio però poi quando il giorno dopo ad esempio me ne vado dico ma porca puttana ma è possibile che io non devo poter entrare ma che cazzo ma veramente ma di che cosa stiamo parlando cioè veramente ma roba da mettere le mutande passerotti cioè ecco perché non è possibile capito e poi capito questa cosa non mi fa star bene poi l'anto dice che questi giorni mi vede un po strano vabbè mi vede un po strano perché mi sono rotto i coglioni di non poter riuscire ad entrare a vedere mio fratello poi vabbè ma questa cosa non è da mo è comunque da parecchio tempo solo che non ti ho voluto stressare assolutamente però dobbiamo cercare una soluzione assoluta e purtroppo l'unica soluzione assoluta è quello che io devo incontrarmi con il don per parlare per fargli capire e devo dire è rotto i coglioni a comportarti così ti vuoi comportare bene e basta e che sono queste bambocciate lo so che lui non ha più lui non ha cioè lui non ha il coraggio di venire da me assolutamente perché lui si sente e noi lui si sente una merda cioè capito però deve deve capire che deve fare un passo lui ma un passo deve fare un passo altrimenti andremo avanti così per per sempre e non ha senso e abbiamo bisogno di altro no di ste bambocciate vabbè vediamo un po se l'anto glielo riesce a far capire è rotto veramente i coglioni è rotto vabbè da me mo a prescindere tutto diamoci da fare che oggi iniziamo sto cazzo di ciclo di radio spero veramente che vada tutto bene probabilmente faranno una radio mirata non lo so se la faranno sull'addome non lo so dove cazzo la faranno vabbè poi tu dimmi un po di cose mi aggiorni su tutto va bene ci sentiamo dopo e vado a verificare sta cosa sto in fibrillazione voglio capire se è lui va bene no vabbè se è lui cuore mio tu non ti preoccupare un bacio un cuore e un abbraccio non faccio niente di cazzate ne parliamo sempre insieme fammi andare a vedere se è lui ciao cuore mio a dopo ciao grazie a tutti